Che incredibile! Il y a un rapport. Il ne sait pas si tu as bien le droit d'y aller. Non è che c'era c'era 5 giorni con silla e tutto... e ora ci sono i passaggiati di solito un po' di solito... Non è così facile, non è così facile, non è così facile. Sì, non è così facile. Oh, è così facile, non è così facile. Mi fa sopporti, non è così facile. Il passaggio è così facile. Se le costa il altro bucho, è solo il bucho. Ora è così facile. Anche le porti a chiocchia. Non è la collettiva, non è la collettiva! 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 Non è la collettiva, non è la collettiva, non è la collettiva! Non è la collettiva, non è la collettiva! Non è la collettiva!